Una inaspettata ma apprezzata visita del presidente della Nissa, Luca Giovannone, è avvenuta ieri pomeriggio alle ore 19 alla Clubhouse della Nissa Rugby. Il presidente della società calcistica, accompagnato dal dirigente Dario Volpe, ha voluto porgere gli auguri alla squadra della palla ovale presieduta da Giuseppe Lo Celso per il recente inizio di campionato ed ha così potuto conoscere la casa del rugby nisseno. In un clima disteso e cordiale, gli esponenti dei due club sportivi hanno evidenziato i reciproci rapporti amichevoli e la proficua coabitazione allo stadio Marco Tomaselli, che ricordiamo essere uno dei pochi campi che può vantare la doppia omologazione sia per il calcio che per il rugby. Una coabitazione lieta, ha dichiarato Giovannone, due società solide che lavorano per Caltanissetta e per lo sport nisseno. In bocca al lupo al rugby per il campionato e complimenti per tutti i progetti sociali che svolgono nel territorio. Lo Celso, dopo aver ringraziato Giovannone per la gradita visita sorpresa, ha dichiarato Il suo modo di fare, gioviale e coinvolgente, è aggregante. Le due società condividono con il massimo rispetto e la massima collaborazione il Marco Tomaselli. Complimenti alla Nissa per il percorso sportivo svolto fino ad adesso. Siamo sicuri che riuscirà a centrare l'obiettivo che i tifosi sognano.